Tragico, incidente stradale poco dopo le 4 di questa mattina in via del Sale a San Pietro in Campiano. Non sono ancora chiare le cause del drammatico incidente nel quale ha perso la vita un giovane 24 anni mentre era alla guida della sua auto. Il giovane ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro un albero dopo aver urtato un lampione ed altri ostacoli fissi lungo la via. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanze automedicalizzate e delizio soccorso, ma purtroppo per il giovane non vi è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco da Cervia e i carabinieri.